Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Molte donne sognano il principe azzurro, ma nella realtà alcune di loro incontrano un orco. E l'estate del 2010 ci troviamo nella città balneare di Blackpool, nella contea di Lancashire, in Inghilterra. È qui che è nata nel 1984 la protagonista di questo caso, Jane Clogue, una donna di 26 anni. I suoi genitori si chiamano John e Penny, suo fratello Pete, e sua sorella Louise. La famiglia vive nella cittadina di Nelson, dove John e Penny hanno deciso di trasferirsi per crescere i loro figli. Jane trascorre un'infanzia davvero felice, è una bambina spiritosa e molto brava a scuola, infatti crescendo da conferma di amare follemente lo studio, la entusiasma a imparare cose nuove. Conseguito il diploma, al termine delle scuole superiori, Jane decide di continuare a studiare per diventare infermiera, proprio come sua madre. Jane si laurea a 22 anni, ben qualificata, trova lavoro al Blackpool Victoria Hospital. A detta di chiunque, Jane ama questo lavoro. È un'infermiera talentuosa e anche molto gentile, premurosa e attenta con i pazienti. Va d'accordo con tutti i colleghi, che presto diventano suoi amici, come accade con un giovane di nome Jonathan Vess, che ha 4 anni più di lei. Jonathan è originario della contea del Bedfordshire, nell'est dell'Inghilterra, tuttavia vive nel Lancashire dall'età di 4 anni. Di aspetto si presenta come un uomo molto alto e particolarmente muscoloso, infatti ama passare il suo tempo libero in palestra a sollevare pesi. Jonathan lavorava già part-time come buttafuori e nel maggio 2007 diventa tecnico di ambulanza al Blackpool Victoria Hospital, dove dà supporto ai paramedici che prestano soccorso ai pazienti. Jonathan è un tipo spiritoso, chi ama fare scherzi e a cui piace divertire il prossimo. Tuttavia i suoi colleghi pensano che sia un po' sciocco e talvolta anche poco professionale. Ma c'è quella collega che lo ha preso in simpatia, ovviamente Jane. Jonathan le piace molto, lui la fa ridere e la affascina, quindi diventano ottimi amici. Poi, presto, il loro rapporto evolve. Cominciano a provare sentimenti reciproci, così iniziano a frequentarsi e in poco tempo Jane si innamora perdutamente di Jonathan. Tuttavia durante i primi mesi i due decidono di mantenere la relazione segreta, soprattutto per i colleghi di lavoro. Infatti, prima di parlarne vogliono capire se la storia possa avere un futuro. Dopo un po' di tempo, siccome stanno davvero bene insieme, Jane si confida con le colleghe e i colleghi a cui è più legata. Ma loro la mettono in guardia dicendo che Jonathan è un uomo inaffidabile, poco professionale e imbarazzante quando sforna battute fuori luogo. Jane però non si lascia influenzare dei pareri contrari, è molto felice e anche Jonathan decide di vivere la relazione apertamente, più o meno. Perché soltanto adesso le confida che è già sposato con una donna di nome Joanne e ha due figli. Jane è sbigottita, si arrabbia, ma Jonathan le dice che il suo matrimonio è in crisi. Presto divorzieranno perché Joanne, a due anni dalle nozze, lo ha sempre tradito. Joanne si fida delle parole di Jonathan, anzi è anche dispiaciuta per lui, ma Jonathan mente, sia perché non ha alcuna intenzione di lasciare la moglie, sia perché Joanne non è affatto una traditrice come lui l'ha descritta. Dunque, di base lui vuole tenere il piede in due scarpe senza rinunciare alla compagnia di Jane, ma non solo. Alcune fonti riportano che Jonathan, in questo periodo, stia uscendo pure con altre due donne. Jane, ignara di tutto, decide di presentare Jonathan ai suoi genitori. Joanne e Penny, però, non rimangono così entusiasti di aver conosciuto il fidanzato della figlia. A loro in realtà sembra un bugiardo compulsivo e un arrogante, uno che inventa un sacco di storie realistiche sulla propria vita per sembrare appetibile, un uomo di successo. Ad esempio, Jonathan ha detto che un giorno avrebbe ereditato molti soldi e in più l'enorme casa della nonna a Baker Street, a Londra, ma ai genitori di Jane è sembrata soltanto una vanteria. Jonathan, a dirla tutta, mente anche sul suo lavoro, infatti dice ai colleghi, butta fuori, che è un paramedico, mentre è un tecnico dell'ambulanza. Ma per Jane, che è molto innamorata di lui, queste sono bugie innocue dette al solo scopo di fare bella figura con i suoi genitori. All'inizio del 2008, Jonathan dice a Jane che il divorzio è effettivo, quindi si trasferisce a casa della ragazza a Barrowfold, un villaggio nel distretto di Pendle, sempre nel Lancashire. Poco dopo, però, lei informa che inizierà a svolgere dei turni notturni extra al lavoro. La verità è che quando i loro orari non combaciano, Jonathan va a dormire a casa della sua famiglia e Jane, presto, inizia a sospettarlo. Così lo affronta, allora lui ammette che non ha ancora avviato la procedura di divorzio, tuttavia non ne vuole parlare, scelta che, ovviamente, alimenta le discussioni con Jane. Lei vorrebbe creare una famiglia con lui, vorrebbe sposarle, avere dei bambini insieme, ma questi progetti come possono concretizzarsi se Jonathan non divorzia? Eppure questo non è l'unico motivo di tensione nel rapporto, perché Jonathan inizia ad abbandonare Jane a livello verbale, mentale ed emotivo. Nello specifico le rivolge commenti meschini, ma parla male di lei anche quando Jane non è presente, insultandola con gli altri alle sue spalle. E arriva persino a farlo con i genitori della ragazza. Racconta loro che Jane è un disastro, che commette un sacco di sbagli, ma non si ferma qui. Jonathan inizia anche a tentare di controllarla. È un uomo particolarmente geloso, possessivo, considera Jane come una sua proprietà e si infastidisce ogni volta che la vede parlare con altri uomini. Vuole sempre sapere dove sia, cosa stia facendo e con chi, e a questo scopo, arriva anche a seguirla. In un'occasione Jane va fuori a pranzo con qualche collega e lui la pedina, passo dopo passo. Non le crede e probabilmente si aspetta di coglierla di sorpresa mentre ne sta con qualcun altro. Attribuisco onestamente questo comportamento alle sue paranoie, visto che è lui quello avvezzo a intrattenere varie frequentazioni, a mentire dicendo che è a lavoro mentre scappa da moglie e figli. Con il tempo gli abusi di Jonathan peggiorano, diventa violento fisicamente, spinge, schiaffeggia e addirittura prende a pugni la povera Jane. Lei chiaramente non riesce a difendersi dalle sue aggressioni, è una donna minuta mentre Jonathan è alto più di un metro e attanta e pieno di muscoli pompati, sia dalla palestra che dagli steroidi. Jane inizialmente non parla con nessuno di questi soprusi, subisce in silenzio e prova a coprire i lividi sul volto con il trucco e quelli sul collo con le sciarpe. Col tempo però Jane sente il bisogno di sfogarsi, non ce la fa più a tenersi dentro questa angoscia e si confida con una collega, Tara, un'altra infermiera dell'ospedale in cui lavora, che è diventata anche una sua carissima amica. Jane racconta a Tara degli abusi, le mostra i lividi e l'amica le dice che aveva già notato un cambiamento in lei. La sua personalità era profondamente mutata. Jane non è più felice, difficilmente sorride, non ha più quel modo di fare frizzante che la caratterizzava prima di mettersi con Jonathan. Jane ora è riservata, chiusa e introversa, ma purtroppo, nonostante gli abusi, non vuole lasciare il suo compagno. Continua ad amarlo profondamente e, come molte vittime di molestie domestiche, crede di poterlo cambiare, di aiutarlo a diventare una persona migliore. Jane non vuole arrendersi, è determinata a far funzionare la relazione. I due rimangono insieme e nel gennaio del 2009 Jane scopre di essere incinta. Lei e Jonathan aspettano una bambina. Jane, ovviamente, è il settimo cielo. Questa gravidanza la fa sperare che Jonathan sarebbe cambiato davvero, che lui, sapendo che ora lei è incinta, la tratti finalmente bene. I genitori di Jane, John e Penny, sono i primi a mostrarsi contrariati una volta a conoscenza della gravidanza. Sì, non sono colti dall'emozione di diventare nonni, bensì dalla preoccupazione che Jane abbia un figlio con Jonathan. Tuttavia, siccome lei desidera questa bambina, loro le sono di supporto e si uniscono alla speranza che Jonathan diventi un uomo migliore. Ma in realtà non c'è limite al peggio. Addirittura Jonathan esercita violenza intima su Jane mentre lei è al settimo mese di gravidanza, a bambini che diventano una costante. Anche a distanza di sei settimane dalla nascita della piccola, venuta al mondo nell'ottobre del 2009, Jonathan forza Jane ad avere un rapporto intimo davanti alla neonata. Questo episodio per Jane, fortunatamente, è l'ultima goccia, quella che fa traboccare il vaso. Ormai le è chiaro che Jonathan non cambierà mai, e poi mai. Anzi, teme che possa fare del male anche alla bambina. Jane, quindi, ne ha finalmente abbastanza, non vuole più stare con Jonathan. Lei è la piccola, non sono al sicuro quando lui è presente. Così si rifugia con la figlia, a casa dei propri genitori. Soltanto adesso Jane si apre e racconta loro che Jonathan aveva un uomo di lei, anche se si limita a menzionare le violenze verbali ed emotive, ma non quelle intime. I suoi genitori la rassicurano, sono felici che la figlia e la nipotina ora stiano con loro, mentre Jonathan è furioso perché non può più controllare la donna che considera di sua proprietà. La sua è soltanto una smagna di possesso, la rivuole perché secondo lui lei gli appartiene. Infatti appena Jane va via, lui le manda un messaggio con scritto. Stiamo insieme, indipendentemente dai nostri problemi. E lei risponde, Ti amo Johnny, ma non mi sento più al sicuro con te. Hai abbiato di me fisicamente e intimamente, hai minacciato di uccidermi l'altra notte. Mi dispiace ma ho paura, odio quando mi tocchi, perché so cosa succederà dopo. Jonathan a sua volta scrive, Ti amo anche io, ma correre dai tuoi genitori, non ti ucciderò, né ti picchierò più. Siccome Jane smette di rispondergli, lui inizia a inondarla di messaggi. Non le dà tempo di riflettere, non le dà lo spazio di cui ha bisogno, non la lascia in pace. Continua imperterrito a contattarle, implorandola di dargli un'altra possibilità. E alla fine, purtroppo, Jane accetta. Jane in realtà concorda con Jonathan, devono provare a far funzionare la loro relazione. Ma ha una condizione. Jonathan avrebbe dovuto ricorrere a un aiuto professionale per tenere sotto controllo la sua rabbia e la sua violenza. Jonathan dice a Jane che addirittura ha già parlato con il medico di famiglia per richiedere una consulenza e ricevere una terapia. Ma come immaginerete, Jonathan sta mentendo, lo fa sistematicamente per ogni cosa. Anche questa, purtroppo, è una bugia. Non solo non è stato dal medico, ma non ha nessuna intenzione di chiedere aiuto. Ha mentito al solo scopo di riportare Jane sotto il suo controllo. Quindi, una volta che Jane torna con Jonathan, non passa molto tempo prima che il suo modo di fare, violento, riemerga. Infatti, a distanza di pochi giorni dalla riconciliazione, Jonathan è scusa di Jane per la nona volta. Lei, a questo punto, decide definitivamente di tagliare i ponti con lui. L'aveva avvisato, gli aveva addirittura dato un'altra possibilità, ma Jonathan non è interessato a chiedere aiuto. Così, Jane torna a casa dei genitori con la bambina. Questa volta, però, Jane confida loro tutta la verità, compreso ogni episodio di violenza intima. La famiglia le sta vicino e le aiuta a trovare il coraggio di andare dalla polizia per denunciare sia gli a**i domestici che le violenze intime. Jane viene ascoltata a lungo, dopodiché Jonathan viene arrestato. Durante l'interrogatorio, lui nega tutte le accuse. Dice agli investigatori che Jane ha esagerato, stava distorcendo la realtà. Cioè, nonostante, si aggiudica nove capi di accusa per violenza intima e quattro capi di accusa per aggressione. In attesa del processo, viene tenuta in custodia e la squadra difensiva che si costituisce chiede che l'indagato possa uscire su cauzione. Rimanendo libero fino all'udienza, ma questa opportunità gli viene negata per ben due volte. Poi, concessa la terza richiesta, incredibilmente. Un uomo accusato di molteplici violenze intime e aggressioni viene quindi rilasciato su cauzione, nonostante sia pericoloso. Le uniche condizioni che ora deve rispettare sono non avvicinarsi a Jane e non contattarla. Ma siamo onesti, secondo voi queste misure sono sufficienti a fermare Jonathan? Purtroppo no. Dopo il rilascio su cauzione, Jonathan va a vivere dai propri genitori, dato che non ha più una casa, visto che la moglie Joanne, una volta scoperto cosa ha combinato, lo ha sbattuto fuori. Jonathan è stato anche licenziato dall'ospedale presso cui lavorava come tecnico di ambulanza e si era già dimesso dal lavoro di bodyguard part-time, visto che voleva dividere il tempo a sua disposizione tra Jane, moglie, figli e palestra. Ora che Jonathan è tornato a piede libero, Jane e tutta la sua famiglia sono terrorizzati al pensiero che lui possa infrangere i divieti. Temono davvero che Jonathan mediti vendetta contro Jane perché lei lo aveva denunciato alla polizia. Per salvaguardarsi, Jane, che è ancora in maternità, smette di uscire di casa, di allontanarsi da sua madre e suo padre, di vedere gli amici. Le porte sono sempre chiusa a chiave, tutto il giorno, tutti i giorni. Nelle rare occasioni in cui Jane esce non è mai da sola, c'è sempre qualcuno che l'accompagna. Durante questo periodo Jane scrive dei pensieri sul suo diario, in particolare nel gennaio 2010 scrive Sono preoccupata che Johnny possa fare qualcosa di stupido, come cercare di trovarmi. Non credo che si siederebbe in aula e lascerebbe che una giuria lo giudichi colpevole. Farà di tutto per non andare in prigione e non posso fare a meno di pensare che si vendicherà. Dopo un paio di settimane Jane scrive ancora sul suo diario Oddio, quando finirà questo inferno? So che alcune persone pensano che io stia reagendo in modo eccessivo, perché continuano a dire che se Johnny avesse intenzione di infrangere le condizioni per la cauzione, l'avrebbe già fatto. Ma io non ci credo. Ho paura. Verso la fine di febbraio 2010 scrive invece Qual è il suo piano? Cosa farà? Non credo che si arriverà al processo senza che lui faccia qualcosa per ferirmi in qualche modo. Infine, all'inizio di marzo scrive Oggi ho avuto paura che Johnny venisse a prendermi. Se volesse uccidermi, chi lo fermerebbe? Dalle riflessioni che Jane annota in questi mesi sul suo diario emerge che è costantemente spaventata. Finalmente nell'aprile del 2010 si tiene l'udienza di patteggiamento di Jonathan. Ma lui si dichiara non colpevole, continua a negare di aver esercitato violenza intima su Jane e di averla aggredita, per cui si fissa un nuovo processo entro la fine del 2010. Jane ha fornito la sua testimonianza dettagliata alla polizia, di modo che avesse tutti gli elementi necessari per perseguirlo e ha intenzione di testimoniare contro di lui durante il processo. È determinata a combattere per ottenere giustizia, per proteggere se stessa e la sua bambina. Secondo alcuni, Jonathan inizialmente pensava che Jane stesse bleffando. Era convinto che alla fine lei si sarebbe arresa, che avrebbe ritirato le accuse contro di lui. Non pensava che la sua ex, resa fragile dall'amore, avrebbe osato affrontarlo in aula. Ma ora deve rendersi conto che Jane è determinata a condannarlo in tribunale. Vuole che sia punito il più velocemente possibile per tutto ciò che le ha fatto. Non ha intenzione di lasciar perdere. E allora Jonathan si infuria. Perché metabolizza che la situazione è completamente sfuggita al suo controllo. Il controllo, ora, è nelle mani di Jane. E lui non può sopportarlo. Il processo di Jonathan avrà luogo verso la fine dell'anno e Jane, che non può fare altro se non aspettare, prova a riprendere in mano la sua vita. Finalmente, oserei dire. Pian piano rincomincia a uscire più spesso con i genitori o gli amici, per distrarsi, passeggiare al parco o allo zoo, nonostante non se la senta ancora di andare fuori da sola. Verso la fine di giugno del 2010, il congedo di maternità volge al termine e Jane torna a lavorare in ospedale. Riuscire a fare questo passo per lei è davvero difficile e quando si mette in macchina e viaggia da sola è sempre in ansia, preoccupata, che Jonathan la segua. E in un'occasione, mentre guida in autostrada, deve fermarsi sulla corsia d'emergenza perché sta per subire un attacco di panico. Poco prima di arrivare al lavoro, Jane manda sempre un messaggio ai colleghi con cui è più legata, chiedendo loro di aspettarla nel parcheggio in modo da entrare in ospedale accompagnata da qualcuno. Ha davvero paura che Jonathan le tenda a un agguato nel parcheggio? È terrorizzata l'idea di ciò che lui potrebbe farle. Purtroppo questa sua paura si rivela più che fondata, infatti Jonathan tutti i giorni dopo gli allenamenti in palestra si mette in macchina alla ricerca di Jane, quindi sta infrangendo le condizioni per l'uscita del carcere su cauzione. Il suo obiettivo è scoprire sempre dove lei si trovi, la perseguita senza farsi vedere però. Jonathan controlla ossessivamente il profilo Facebook di Jane che pubblica foto di quando esce con gli amici. Ha riacquistato un po' di sicurezza in se stessa e tranquillità. Di conseguenza riprende anche l'abitudine a uscire di sera, interrotta per mesi e mesi a causa della paura. Dunque dopo tanto tempo la sera del 23 luglio 2010 Jane accetta di uscire con alcune amiche. Passano una serata bellissima, le amiche finalmente la ritrovano più serena e sorridente e Jane sembra di nuovo la donna felice e frizzante che avevano conosciuto. Intanto Jonathan è ancora infuriato con lei perché Jane non sta ritirando le accuse che gli ha rivolto e lui teme che la sua vita non sarà più la stessa dopo il processo e lei che gliela sta rovinando la vita. Per Jonathan la colpa è solo e soltanto di Jane, non di certo sua, lui è solo una povera vittima delle sue dichiarazioni. A Jonathan conviene dimenticare che ha ripetutamente fatto violenza intima sulla sua ex, anche davanti alla loro bambina, che la aggredita in tantissime occasioni. Non accetta di finire in prigione con il marchio di chi fa violenza intima e odia profondamente Jane per questo. Avrebbe perso tutto soltanto perché lei si era rivolta alla polizia. Jonathan è talmente annebbiato dalla rabbia che prende una decisione che la vita potrà rovinargiela ancora di più e purtroppo non solo la sua. Due giorni dopo l'uscita serale di Jane, domenica 25 luglio 2010, la ragazza deve svolgere il turno di notte in ospedale, quindi alle 19.30 affida la bambina le cure dei propri genitori e sale in macchina. Arriva al Blackpool Victoria Hospital verso le 20.16 e si ferma nel parcheggio, ignana del fatto che Jonathan la sta aspettando e che ora la osserva. Il suo pericoloso ex ha parcheggiato la propria macchina in una strada laterale, in una zona vicina, poco prima. Poi ha aperto il bagagliaio, ha tirato fuori la sua bicicletta e l'ha usata per arrivare al parcheggio dell'ospedale, dove si è messo in attesa di Jane. Lei, una volta scesa dalla sua auto, inizia a camminare verso l'ingresso dell'ospedale da sola. Ormai, infatti, non chiede più ai colleghi di raggiungerla nel parcheggio e accompagnarla all'interno, perché, ripeto, ha riacquistato un po' di sicurezza. Poi le telecamere a circuito chiuso la immortalano mentre, quando si trova a circa metà strada, si gira e torna indietro, verso la macchina, forse perché ha dimenticato qualcosa. A questo punto, la sua più grande paura si materializza. Jonathan spunta fuori, le piomba davanti e le urla di ritirare le accuse contro di lui. Jane non lo accetta, si fa valere, gli dice di no, non avrebbe fatto finta di nulla e non gli avrebbe più permesso di intimidirla o minacciarla. Jonathan si scontra con il suo categorico rifiuto, con la sua determinazione a non arrendersi, a non lasciar perdere. Allora, estrae un coltello, spinge Jane per terra e la pugnala per 71 volte in tutto il corpo. Poi se ne va. Nonostante il feroce attacco, Jane è ancora in vita, ma gravemente ferita. Lotta per trascinarsi sul cemento, ma non riesce a fare molta strada perché il suo brutale aggressore torna indietro e le taglia la gola. Dopodiché, fugge. Non si è fatto alcuno scrupolo a ridurre così la madre di sua figlia. Pochi minuti dopo, Jane viene vista mentre è riversa a terra e portata ad urgenza in ospedale. Nonostante lei lavori a Blackpool Victoria Hospital, i medici e gli infermieri, suoi colleghi, non la riconoscono a causa delle ferite e del sangue che la ricopre. Poi, la identificano grazie al tesserino. Provano a salvarla in tutti i modi, ma purtroppo non c'è niente da fare. Le ferite di Jane sono gravi e lei ha perso troppo sangue. Jane, quindi viene dichiarata morta. Aveva soltanto 26 anni. La polizia che si occupa del caso descrive l'omicidio di Jane come uno dei più brutali mai visti. Come detto, è stata pugnalata per 71 volte di cui 19 colpi sono stati inferti al collo. Jane riporta taglie ferite da coltello su mani e braccia. Molte sono lesioni da difesa che testimoniano che lei ha provato a lottare ma non aveva alcuna possibilità di salvarsi contro un uomo alto e muscoloso come Jonathan. Appena la polizia avvia l'indagine sull'omicidio sa già chi è il colpevole. Jonathan Vess l'ex compagno della donna un soggetto violento che aveva già abbonato intimamente di lei più e più volte. Mentre alcuni agenti lo cercano altri un paio di ore dopo l'omicidio vanno a casa dei genitori di Jane per dare loro la tragica notizia. Gli investigatori inviano anche due poliziotti a sorvegliare fuori dalla dimora dei genitori di Jane. Siccome Jonathan è ancora in libertà temono che possa aggredire anche i genitori di Jane o persino sua figlia. E l'intuito dei detective purtroppo non sbaglia. Jonathan dopo la fuga dalla scena del crimine vaga in macchina tutta la notte nel tentativo di disperdere le sue tracce finché verso le 6 del mattino guida per raggiungere la casa dei genitori di Jane. In auto ha con sé due taniche piene di benzina gli strumenti dell'orribile atto che vuole compiere. Dare fuoco alla casa dei coniugi per uccidere loro e pure la propria bambina. Si teorizza inoltre che Jonathan avesse in programma di togliersi la vita durante l'incendio ormai consapevole di non poter sfuggire alle conseguenze delle sue azioni deplorevoli. Tuttavia appena si ferma nei pressi dell'abitazione intorno alle 7.30 del mattino gli agenti di guardia lo vedono lo catturano immediatamente con l'uso di un taser e fortunatamente lo arrestano. Jonathan è rabbioso non soltanto per la cattura ma anche perché lo disgusta che alcune agenti donne si stiano occupando del suo arresto. Jonathan è un uomo vile che ha sempre cercato di controllare le donne conosciute nella sua vita e ora non accetta di avere ordini dalle poliziotte. E qui io aggiungo un'osservazione è un vero peccato che la sua ex moglie Joanne non abbia reso dichiarazioni su come lui si comportasse con lei anche se lo aveva sbattuto fuori da casa quando Jonathan era stato accusato di violenza intima. A seguito dell'arresto Jonathan viene preso in custodia e interrogato sull'omicidio di Jane e ammette di essere suo assassino. Tuttavia non mostra alcun rimorso non si sente affatto in colpa piuttosto sembra soddisfatto del crimine commesso felice che Jane sia morta. Jonathan viene accusato dell'omicidio di Jane e nell'ottobre del 2010 si dichiara colpevole. Durante il procedimento giudiziario viene esaminato il diario di Jane e le frasi dalle scritte sembrano segni premonitori. Descriveva la propria paura esprimeva la consapevolezza che Jonathan non si sarebbe mai arreso di fronte alla verità che gli stava scomoda che non avrebbe affrontato le conseguenze causate dalle sue stesse azioni. Dopo una settimana dalla sua dichiarazione di colpevolezza Jonathan viene condannato all'ergastolo con un minimo di 30 anni. Purtroppo le accuse di violenza intima contro Jonathan vengono archiviate dal giudice che decide di condannarlo soltanto per l'omicidio di Jane eppure prima di ucciderla Jonathan gli aveva usato violenza per nove volte ma questo per il giudice non conta perché non avrebbe allungato la pena detentiva complessiva. Come immaginabile la famiglia della ragazza reagisce con delusione e rabbia dinnanzi a questo risvolto perché in nome della giustizia e per rispetto della dignità di Jane Jonathan merita una punizione per tutti i crimini commessi. Altro aspetto da considerare è che se Jonathan fosse stato accusato di tutti i reati di cui è autore 30 anni più avanti dopo il rilascio dal carcere sarebbe stato schedato come un molestatore registrato ma visto che non gli è stata attribuita questa accusa una volta tornato libero gli sarà più facile mettere in pericolo altre donne. Così i genitori di Jane John e Penny avviano una tenace campagna chiamata giustizia per Jane convinti della necessità di un cambiamento delle leggi sulla cauzione del Regno Unito e allo scopo di proteggere tutte le vittime degli autori di abusi in attesa di processo e anche per l'istituzione di un registro degli stalker inoltre lanciano una petizione online che raccoglie migliaia di firme i genitori di Jane sperimentano non poche difficoltà durante la loro battaglia ma nel maggio del 2012 il duro lavoro dà finalmente frutti viene varata la legge di Jane intitolata proprio a lei che consente alle vittime di abusi di impugnare un appello contro la decisione di un giudice di rilasciare su cauzione il loro aggressore questa legge se fosse stata introdotta in passato avrebbe potuto salvare la vita Jane ma i suoi genitori hanno lottato affinché possa almeno tutelare numerose altre vittime intanto Louise la sorella di Jane cerca di adottare la piccola ma la situazione è problematica perché dal carcere Jonathan si oppone e la questione finisce in tribunale pensate che durante il procedimento giudiziario all'assassino della madre della bambina viene anche consentito di controinterrogare Louise tramite un collegamento video fortunatamente alla fine Louise riesce ad adottare la figlia di Jane anche questa vicenda purtroppo ci ricorda la necessità di sensibilizzare riguardo ai segnali e quella di offrire un supporto concreto alle vittime ho molto apprezzato la resilienza e l'amorevolezza della famiglia di Jane ma mi rattrista il pensiero di questa bambina costretta a vivere senza la sua mamma per mano di un uomo violento e privo di scrupoli io ho finito di parlare in questo video e purtroppo di questi casi ce ne sono davvero tantissimi ma ci tengo a portare sempre questi casi anche per sottolinearvi quanto degli errori come il rilasciare su cauzione un aggressore possa portare un omicidio probabilmente se Jonathan non fosse stato rilasciato su cauzione Jane sarebbe ancora qui viva e vegeta e purtroppo dobbiamo sempre fare i conti con questi errori errori umani sicuramente ma errori che portano alla morte qualcuno sarebbe ora di fare un po' più di attenzione credo ma voi cosa ne pensate di questo caso fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro parere quindi come al solito come vi dico sempre ci becchiamo nei commenti e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti